Coach Simoni, la partita con Modena ci ha detto che Verona può tenere testa anche alle grandi squadre, nonostante il risultato, però una partita che Verona ha giocato a testa alta. Sì, abbiamo giocato un'ottima partita e direi che abbiamo perso un'occasione grossa. Anche nell'ultimo set loro più volte ci hanno rimesso in partita e noi abbiamo davvero perso l'occasione di arrivare al tiebreak e di poterlo vincere. Abbiamo giocato un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, abbiamo commesso degli errori che possono essere sicuramente evitati, ma comunque il trend è buono e positivo. Capitan Gazzischi ha dato il meglio soprattutto nel secondo set, ma in generale ha fatto una grande partita. Sì, è incredibile, è incredibile questo giocatore che nonostante la non più giovane età si esprime ad altissimo livello, ma non ad altissimo livello rispetto ai suoi coetanei, ma rispetto a tutto il panorama nazionale dei giocatori. Ha fatto davvero una partita straordinaria. Domani Verona scenderà in campo alla Chione Arena contro Padova, insomma una squadra che sa mettere in difficoltà anche squadre importanti. A cosa bisognerà prestare particolare attenzione e cosa Verona dovrà fare invece per riuscire a portare a casa tre punti? Dobbiamo ripartire da Modena. La partita sarà giocata, dovremo stare attenti soprattutto a noi stessi, ritrovare lo stesso ritmo di gioco, la stessa determinazione, la stessa voglia di portare a casa il risultato, perché non sarà sicuramente una partita facile. Loro giocano probabilmente con il secondo palleggiatore che conosciamo poco o con un palleggiatore appena arrivato che non conosciamo per niente. Quindi dobbiamo pensare a noi stessi.